Sono molto contenta che la presidenza di turno ungherese abbia deciso di porre questa questione tra le sue priorità. Nel corso del nostro incontro abbiamo fatto ovviamente il punto anche sull'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Roma e Budapest. L'Ungheria è chiaramente un importante partner europeo, è per noi un prezioso alleato anche in ambito NATO. Sono molto soddisfatta dell'intensificazione negli ultimi mesi, tanto del nostro dialogo politico quanto del rafforzamento delle nostre relazioni economiche. Le aziende italiane guardano con sempre maggiore interesse al mercato ungherese in termini di esportazioni, in termini di investimenti. L'Italia sostiene, come si sa, il battaglione multinazionale della NATO a guida ungherese. Siamo soddisfatti dell'eccellente rapporto livello di cooperazione raggiunto in particolar modo nei Balcani, regione che entrambi, sia Italia che Ungheria, considerano strategiche.